Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Beta 6. V-Box Beta 6 per la casa, ufficio, famiglia, desktop, USB 3.0, PC, computer. 3, 8GHZAMDFX 4300 quad core processore. 8GB OFF DDR3 1, 6, 0, 0 MHz RAM. 2000GB hard disk. Scheda grafica booster chip integrato in motherboard. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.